Sono le 7, oggi è il 3 maggio, sto lasciando il porto di Trapani, la destinazione è San Vitolo Capo, è una passeggiatina di 23 miglia, arriverò verso mezzogiorno. Il tempo è nuvoloso, per ora c'è un po' di venticello, circa 4 nodi da est, dall'idea di essere più una brezza costiera del mattino che un reale vento, il meteo da calma piatta, adesso vediamo quando sono fuori, se riesco ad aprire una vela. Comunque è nuvolo, ma il cielo è molto bello, immagino che si possa vedere. Ecco le isole, Levanzo a destra, Favignana dritta. E' da questa parte, guardate che giro. In lontananza, Capo San Vito. Capo Pizzolungo è sullo sfondo, a città di Trapani. In lontananza si vedono Favignana e Levanzo. Buongiorno a tutti. Bella che si vede, un po' in controloce, è la punta del Saraceno. Questo tratto di costa, al nord della Sicilia, è molto bella, con queste montagne una davanti all'altra. In fondo, Capo San Vito. Come vedete il mare è calmo, ci sono 4-5 nodi di vento da nord-est, quindi esattamente sulla prua. E come al solito, la maledizione del veista colpisce, come dice un mio amico, il vento è gratis, ma non lo puoi avere come lo vuoi. E in effetti, così è. E in effetti, così è. E in effetti, così è. Punta del Saraceno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. San Vito Lo Capo, esperimento di riprese col drone, scusate la qualità, sto ancora imparando, come per andare in vela. San Vito Lo Capo 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 Grazie a tutti. 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 Scirocata con raffiche a 40 nodi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.